È la mia prima edizione di Diamante Nero, arrivo in Valnerina dopo l'esperienza del Festival Internazionale Green Music nel 2022, un territorio che amo in modo particolare e ho portato quest'anno il mio contributo cercando di diffondere il più possibile la conoscenza di questi spazi. Il coinvolgimento di personaggi leader del mondo media sa significare proprio questo, avremo il dottor Roberto Giacobbo, conduttore di Freedom, avremo lo scrittore e regista Federico Moccia, avremo naturalmente Emanuele Arcuri che è una leader per quanto concerne l'aspetto della sua popolarità, avremo il grande luminare cardiochirurgo il prof Massetti, la rivelazione delle ultime due edizioni di Zelig e Vincenzo Albano, insomma ce n'è veramente per tutti i gussi, non lasciando ovviamente l'aspetto forse più importante con l'organizzazione di una tavola rotonda su una problematica assolutamente significativa che è lo spopolamento di questi territori montani.